il 15 novembre di 1899 che doveva passare alla scuola il salone anche era frequentato dai più grandi artisti internazionali signore, signori il caffè Shantan quello che si è visto in testa di fare la canzone antica non sa la storia a te ti hanno riconosciuto allora ti volevo dire che da oggi in poi se tu puoi mangiare ti devi cucinare perché io adesso non lascio a te adesso abbiamo andato la capa del pazzo e lì che trovo a me lo ha detto vertela e ti lascio Marco lo va abusato a tutti a me lo ha detto a San Martino guarda, lo va abusato a San Martino ma chi è a San Martino? grazie per l'accoglienza che aveva a partire della mia presenza dopo una lunga assenza qui va con la direzione che mi ha mostrato questa circonferenza e poi io vivo sono terminato con i chine una scatolata con la sabola e il mare con tutti i soldi con i chine Ehi, fai di saltare, ci vado un piccolo. Da Shakespeare... Non ci servisci. No, ma va. Shakespeare. 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 Giulietta, attaccia di dolce, non serva. E tu sai, di sott'acca, non serva. Di sott'acca, non serva. Capito? Me lo vuoi dare? O non me lo vuoi dare? Cosa ti devo dare? Una fotografia. Ahhhh! E tu cosa rima? Fatiglia! Azzur! Bella! Ma che fai stasera? banda da vicino. Forcesero. Ahaha! Che stai immenetri di uso ci sono presi! Ma non ho il normally mio. Ma non ho il mio plus, potremmo dir tutto male Viviano, ma non si, ma devo avere, ma la ringrazio dalle patiche di noi. Bitti è un lontanone, come qui? Dove siero. E guardiamo a guardare... E' so' guarda, so' guarda. Chiossi, chiossi. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Qualcuno ci ha fregato il fatto? Qualcuno ci ha fregato il fatto. No, no, non c'è lui. No, no, non c'è lui. E' un'altra cosa. Vai, mamma, sei da lui. No, no. Prima di noi, non c'è lui. In questo stesso appartamento c'era una casa d'appuntamento. Shhhhhh. E come mi vedi? Mi fa mettere comodo. Su un lentino sdraiato. Eh, eh. Sa come in là che vanno sui, giù, sui, giù, sui, giù. E appoggi la testa qui. Non si trova, ma faccia tutto io. Oh, sì. Stia zitta e mi lasci parte. Oh, sì. E' un palazzo. E' un palazzo. E' un palazzo. Oddioii.